Gela spari a scavone un ferito indagano i carabinieri esami di maturità al via prova d'italiano per 2791 studenti del nisseno beni culturali attività socialmente utili proclamato lo sciopero dei lavoratori fino a venerdì occupazione sullo pubblico annunciata dal comune di San Cataldo la riduzione della tassa Un gelese di 40 anni, Fabio Argenti, è stato ferito a colpi di fucile la scorsa notte nella zona di via Rio de Janeiro. Subito dopo l'accaduto, l'uomo, che a alcuni precedenti, è stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti del caso e i primi sospetti si sono indirizzati su un uomo di 56 anni, con precedenti anche per accuse di mafia. I militari dell'arma hanno eseguito i controlli per individuare tracce di polvere da sparo, sequestrando anche alcuni indumenti. Ora si attendono gli sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procura di Gela. Un gelese di 40 anni, Fabio Argenti, è stato ferito a colpi di fucile la scorsa notte nella zona di via Rio de Janeiro. Subito dopo l'accaduto, l'uomo, che a alcuni precedenti, è stato condotto all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti del caso e i primi sospetti si sono indirizzati su un uomo di 56 anni, con precedenti anche per accuse di mafia. I militari dell'arma hanno eseguito i controlli per individuare tracce di polvere da sparo, sequestrando anche alcuni indumenti. Ora si attendono gli sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procura di Gela. Con il tema di italiano di stamattina è arrivato il momento degli esami di maturità per 2791 studenti delle scuole della provincia di Caltanissetta, di cui 2583 interni e 133 esterni nelle scuole statali, 63 interni e 12 esterni nelle paritarie. Le prove scritte non sembrano creare troppe tensioni ai ragazzi. Alcuni di loro, ai nostri microfoni, hanno detto di avere trascorso una serena notte prima degli esami. Discorso leggermente diverso per gli orali, che scatteranno la prossima settimana e si concluderanno entro il 9 luglio. Stamattina tutti davanti agli ingressi dei vari istituti in attesa di varcare i cancelli, un po' di umano nervosismo, ma anche tanti sorrisi e occhi carichi di speranza. C'è chi ha azzeccato il pronostico sulla traccia dedicata a Giovanni Pascoli, o chi sperava in un tema di letteratura in linea con il percorso di studi, e chi si augurava una traccia di attualità sulle stragi del 92 costate la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. Paura no, comunque l'esame è calibrato in un modo o in un altro per permetterci di sostenerlo, per cui non siamo molto preoccupati. Il problema sorge per gli esami orali, sono un po' più complicati, però adesso non è... Com'è stata la notte prima degli esami? No, ho dormito, tranquillamente. Abbiamo un sacco di ansia per questi esami, è un'esperienza nuova che ovviamente sarà una crescita per tutti, però comunque abbiamo un sacco di ansia. Com'è stata la notte prima degli esami? No, tutto sommato serena, perché alla fine oggi è la prima prova, quindi italiana, è un tema che abbiamo sempre fatto, quindi siamo sereni. Sulle tracce sperate qualcosa in particolare? Ma speriamo che ci sia qualcosa inerente magari alle strage di Capaci, qualcosa inerente a Verga, a Pascoli, speriamo bene. Comunque siamo abbastanza tranquilli, almeno io per oggi, dato che appunto sarà un tema di italiano, possiamo scegliere varie opzioni e credo che comunque andrà abbastanza bene. L'attenzione prima degli esami è forte? No, no, riesco a mantenerla, sono abbastanza tranquillo e speriamo che vada tutto bene. Sulle tracce vi augurate qualcosa in particolare? Ma mi auguro un argomento di attualità che comunque mi consente di poter scrivere. Ma veramente è tranquillo. Niente ansia oggi. No, 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 c'è tranquillità, però l'importante è che si affronta così, secondo me. Destinare i locali dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Viale Regina Margherita come sede della Facoltà di Medicina. Lo ha chiesto a gran voce la consigliera comunale del PD Anna-Lisa Petitto che questa mattina ha incontrato i cronisti, sottolineando che l'ex struttura ospedaliere è destinata dagli anni 90 alla funzione universitaria grazie a precedenti atti amministrativi comunali e regionali e anche in base allo stanziamento di 4 miliardi di lire dell'epoca utilizzati per realizzare l'aura magna e rimettere a nuovo diversi locali del Vittorio Emanuele. La polemica si è aperta dopo che la scorsa settimana il sindaco emesso una delibera con cui venivano destinati i locali della scuola capuana di via Red Italia e dell'ex sede del corso di ingegneria elettrica proprio a ospitare la facoltà. Su questo punto il primo cittadino ai nostri microfoni ha ribattuto che si tratta di una decisione dettata dall'emergenza dopo che il chef passa sfrattato l'Ateneo Palermitano sotto cui ricade il corso di laurea di medicina e che l'utilizzo del Vittorio Emanuele come sede universitaria è una priorità dell'amministrazione. Non si comprende il motivo per cui il sindaco non pretenda dall'ASP che parliamoci chiaro e soggio come lo è il comune del consorzio universitario che questi locali vengano sgombrati da qualche ufficio amministrativo perché si parla solo di uffici amministrativi dell'ASP e venga destinato per come effettivamente dovrebbe essere era ed è destinato alla facoltà di medicina e di chirurgia. Qui sostanzialmente abbiamo un gioco delle tre carte perché il sindaco come al solito non chiede nulla all'ASP, come al solito lasciamo i potenti al loro posto. credo che sia con questa delibera di riorganizzazione definitivamente smascherato e credo che abbiamo finito una volta per sempre di prendere in giro, ha finito il sindaco, di prendere in giro la città perché di questo si tratta, perché nella misura in cui ancora questa città è ostaggio dei potenti e del potere sanitario trasversale dell'ASP, a cui nessuno chiede mai conto, in primis il sindaco che dovrebbe rivendicare questi locali. Io e Vittorio Emanuele ho avuto modo di rappresentarlo in maniera anche pesante e fortissima al presidente della regione durante una sua visita di un anno e mezzo fa fatta in consiglio provinciale dove lui annunciava lì il trasferimento degli uffici dell'ASP perché essendo di indisponibilità all'ASP il Vittorio Emanuele secondo lui poteva fare quello che voleva. Io ho detto che assolutamente questo non poteva succedere perché l'edificio del Vittorio Emanuele fu ceduto dal comune di Caltanissetta che era il proprietario all'ASL di allora esattamente per la realizzazione della facoltà di medicina e chirurgia. L'anno scorso in sede di assemblea di consorzio universitario a cui partecipo io personalmente e non delego nessuno, c'è stato notificato uno sfratto da parte del CEF PAS, socio anche lui del consorzio universitario per i due padiglioni che sono in affitto per medicina e chirurgia. In quel momento avere uno sfratto con una impossibilità di iniziare la lezione dell'anno accademico in corso era veramente una tragedia, significava perdere il corso di laurea di medicina e chirurgia ed era evidente anche una manovra politica per fare questo. Io mi sono opposto con tutte le mie forze personalmente, ho proposto al dirigente del CEF PAS di modificare un cronoprogramma di interventi perché lo sfratto era conseguenziale dall'esecuzione dei lavori, ho proposto una modifica al cronoprogramma di interventi che è stato accettato e quindi per l'anno accademico in corso il corso dell'area di medicina e chirurgia è rimasto ospite dal CEF PAS, ma abbiamo dovuto correre i ripari perché se noi non troviamo una location idonea ad ospitare il corso, perdiamo il corso di laurea di medicina e chirurgia. Rifiuti è ancora al centro dell'attenzione della politica e non solo questa mattina in città è arrivata la commissione regionale antimafia per cercare di fare chiarezza sull'universo rifiuti gelese dal servizio di raccolta alle assunzioni che le impianti SRR si appreste effettuare su Gela e Caltanissetta. Questa mattina a Palazzo di Città l'attuale presidente della commissione, la forzista Luisa Lantieri, accompagnata dal deputato Dem Nello di Pasquale ha ascoltato il sindaco Lucio Greco e l'amministratore di impianti SRR Giovanna Picone. Sul tavolo della commissione è il piano delle assunzioni delle impianti SRR alla luce della pianta organica approvata appena qualche giorno fa e un focus su Timpazzo dove la commissione ha anche effettuato un sopralluogo. Stiamo valutando le modalità di assunzione che sono state fatte in questi ultimi tempi, sono importanti, abbiamo visto che sono state fatte 40 assunzioni affidando a una società interinale, stiamo vedendo alcune cose. Sconosciuto al momento il contenuto preciso delle audizioni che sono state secretate, anche se la presidente Lantieri fa comunque un bilancio della discussione di oggi. Abbiamo deciso di venire qui in città perché adesso come tutti sapete la discarica di Timpazzo è diventato centrale in tutta la Sicilia. Stanno cercando di riaprire trapani ma le altre discariche ormai sono sature e di conseguenza si utilizza Timpazzo. Come diceva giustamente il sindaco abbiamo dato voce anche al territorio perché già il territorio di Gela a livello ambientale ha pagato un prezzo molto alto perciò si deve cercare di trovare un equilibrio. Un equilibrio che bisogna trovare anche ascoltando le preoccupazioni da parte del primo cittadino ma anche ascoltando come l'impianti SRR si sta muovendo riguardo alle nuove assunzioni. Avete affrontato anche questi argomenti? Abbiamo affrontato anche questo argomento che era un argomento fondamentale anche perché ci sono delle contestazioni di conseguenza dovevamo farle. Abbiamo secretato su questo l'audizione vi faremo sapere però anche questo c'è stata l'interlocuzione con l'ingegnere Piccone. State andando a Timpazzo per un sopralluogo proprio sulla discarica di Timpazzo? Come avete scelto di fare un sopralluogo anche lì? Abbiamo scelto di fare un sopralluogo perché l'ingegnere Piccone ha detto che ci sia un macchinario nuovo un investimento che potrebbe dare una grossa mano a quello che è la trasformazione dei rifiuti perciò per andare a valutare personalmente quello che c'è perché fare una visita. Soddisfatto il sindaco Lucio Greco che da mesi ormai ha sollevato preoccupazioni sul sistema della gestione dei rifiuti in città. Abbiamo ritenuto di rappresentare un po' tutte le criticità e tutto quello che afferisce questa gestione di questa emergenza che ha avuto un inizio ma ad oggi non sappiamo se e quando finirà e credo di avere svolto dignitosamente il ruolo di sindaco di questa città cercando prima di tutto e comunque in ogni caso i diritti di un territorio che è già come tutti sappiamo area ad alta crisi di incidenza ambientale, un territorio che ha pagato un caro e pesante prezzo in termini ambientali ed epidemiologici e quindi ho rappresentato il nostro grande dispiacere di assoluta mancanza di sensibilità verso questo territorio che ha già dato tanto e che ancora si pretende di sacrificare rispetto ad un'emergenza regionale che ancora oggi, nostro malgrado, non trova idonee soluzioni. Sciopereranno fino a sabato 280 lavoratori di diverse strutture culturali e archeologiche della regione compresa la soprintendenza dei beni culturali di Caltanisset per chiedere un miglioramento delle condizioni contrattuali. Lo scioper è stato proclamato da diverse sigle sindacali cui i rappresentanti hanno chiesto un incontro con i vertici regionali per chiarire la situazione dei lavoratori e delle loro famiglie che attualmente vivono grazie a stipendi minimi di appena 600 euro mensili. I ritardi nei pagamenti stanno mettendo in forte agitazione i lavoratori del servizio rifiuti. La mensilità di maggio non è ancora stata pagata da Tecra che ha però ricevuto il canone dal comune. Tutte le sigle sindacali del settore sono pronte ad azioni anche eclatanti. Tecra infatti troppo spesso, secondo i sindacati, non rispetta il termine previsto per i pagamenti, quello del 15 di ogni mese. Le sigle sindacali USB e FITCISL hanno scritto all'azienda, alla SRR4, al comune e anche alla prefettura. I segretari Luca Faraci, Mario Stagno e Gabriele Nicolicchi attendono riscontri ritenendo che i ritardi debbano far scattare anche gli interessi nella misura del 3% come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori Tecra Se i pagamenti non verranno autorizzati entro il 26 giugno proclameranno lo stato di raffreddamento con la conseguenza dello sciopero, così hanno ribadito. Anche la FILAS ha denunciato proprio i continui ritardi nei pagamenti. Per la CGL inoltre l'emergenza riguarda anche il blocco delle ferie che per contratto spettano a tutti i lavoratori del settore nel periodo ricompreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Lo ha spiegato il responsabile della FP CGL, Paolo Anzaldi. Secondo il sindacalista infatti il sospetto inoltre che questa situazione possa essere stata determinata dall'ennesimo atto di forza tra amministrazione e azienda. Secondo il sindacalista inoltre sono soltanto i lavoratori a pagarne le conseguenze. A San Cataldo è stata ridotta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, una novità che avvantaggerà i commercianti dei vari settori. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore comunale allo sviluppo economico Marianna Guttilla. Le nuove tariffe sono state definite nel corso di un incontro tenutosi nella sala consigliare di Palazzo delle Spighe. Presenti oltre all'assessore Guttilla il presidente provinciale Cidec Domenico Danisi, il commerciante Luca Davide Dell'Aira, insieme ai dipendenti comunali dello sportello unico per le attività produttive del settore tributi. Il sindaco Comparato e l'assessore Guttilla hanno espresso la loro soddisfazione per il buon esito della trattativa, sottolineando la sinergia tra amministratori sindacati e commercianti. La partenza, il distacco, la fuga, l'esodo, l'amore, il dolore, la speranza, la voglia di ribellione, emozioni ed esperienze di vita raccontate sul palco del Teatro Rosso di San Secondo stasera alle 21 da Aldo Rapè con gli allievi attori del Laboratorio Teatrale Camper durante lo spettacolo evento La Pace. Indaghiamo sui fenomeni della guerra e della pace, lo facciamo con le parole, con testi sacri come Aristofane, con autori Eschilo, Goldoni, tutto tratto da loro. Noi l'abbiamo solo assemblato. Nella presentazione abbiamo detto non vogliamo dare delle risposte rispetto al tema, sicuramente ci poniamo delle domande. Quella più grossa è la vicenda umana che c'è dietro ogni guerra, quindi dietro ogni mancanza di pace. Quest'anno mi preme dire, al di là del momento storico che stiamo vivendo, la cosa più bella è il tema multiculturale del nostro laboratorio. Per più di quattro mesi con ragazzi che abbiamo ragazzi arabi, ragazzi pakistani, ragazzi nigeriani, oltre ai nostri ragazzi di Caltain Setta, attori di Enna, che si sono uniti e per quattro mesi abbiamo riflettuto insieme sulla tematica, con poesie, con improvvisazioni. Io ho tratto anche delle cose da documentari che ho visto sulla tematica, quindi ci sono un sacco di citazioni e ci sono anche delle cose originali scritte proprio dagli allievi attori. In una parte del laboratorio abbiamo fatto delle improvvisazioni proprio di scrittura. Sono uscite delle cose molto interessanti sulla ricerca di una quotidianità perduta, del sacro perduto nel quotidiano. Su questo abbiamo fatto proprio dei lavori specifici. è un lavoro che è vario, è vario e non solo multiculturale, ma anche multidisciplinare. A parte che penso che un attore debba essere formato a 360 gradi, non solo sulla parola. Noi la usiamo per la prima volta molto quest'anno la parola, però sì, sono d'accordo. Ci sono anche delle cose visive particolari, insomma è uno spettacolo completo. Poi ahimè, la tematica è quanto mai attuale. Ci tengo a dire che parte del ricavato va alla cooperativa Etnos per l'attività di accoglienza che stanno facendo con le donne ucraine, con la casa di Jose. Quindi ci saranno anche una parte di loro con noi. Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Situazione per mercoledì con due attori contrapposti sull'Europa centro-occidentale, una zona di bassa pressione oceanica che si muoverà dalla penisola iberica verso la Francia, fuori era oltre alpe di temporali anche intensi e di forte intensità, mentre sul Mediterraneo centro-orientale alta pressione di matrice nord-africana con aria bollente dal continente africano verso le nostre regioni. Andiamo a vedere quindi lo zoom precipitazioni perché in giornata ci saranno dei rovesci temporali in formazione sulle Alpi, soprattutto la parte centro-occidentale, qualcosa. Non lo escludiamo anche verso la pianura del Piemonte-Ovest-Lombardia. Altrove stabilità e grande canicola. Difatti possiamo osservare, a parte qualche disturbo sulle Alpi e sull'Ovest del Piemonte in giornata con dei temporali sulle Alpi localmente anche di forte intensità. Possiamo notare come altrove, specie al centro-sud, ci sarà il sole e soprattutto il grande caldo con picchi anche fino a 38 gradi sull'entroterra della parte tirrenica e della Puglia. Ulteriori dettagli e approfondimenti vi trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, al Duomo, via Filippo Paladini. Servizio notturno, Croce Verde, Viale della Regione. Servizio notturno, Croce Verde, Viale della Regione.